Lo chef Heinz Beck, tre stelle Michelin, tra i più importanti riferimenti al mondo per l'alta cucina, arriva a Teramo per rilanciare il territorio e promuovere l'enogastronomia locale. Ripartire dal food, con questa premessa, prenderà il via la seconda edizione del concorso nazionale Miglior Allievo di Enogastronomia in Cucina, organizzato da Asso a Pidivisione Formazione, prima scuola italiana di formazione in e-learning, dedicata al mondo del food, in collaborazione con Randstad. La sfida si terrà il 19 maggio 2017, tra i fornelli dell'Istituto Alberghiero di Popparozzi di Teramo. Nelle cucine della scuola si affronteranno futuri chef e, a giudicarli, ci sarà una giuria di esperti, presieduta proprio dallo chef del ristorante romano La Pergola, Heinz Beck. Il vincitore della competizione riceverà un premio di 500 euro, più una borsa di studio per seguire gratuitamente il corso Cuoco. Non solo un concorso dei futuri chef, ma un'occasione per rilanciare il territorio e dei prodotti tipici dopo il sisma. I concorrenti, infatti, dovranno utilizzare almeno un prodotto abruzzese nella preparazione del piatto concorrente, spiega Antonio Santoro, responsabile della formazione per Asso Api. La scelta della location nasce dalla volontà di premiare un istituto attivo e attento nella formazione dei propri allievi. La scelta della scelta 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 Grazie.